Il nostro punto fermo dall'inizio della vertenza, un po' come per tutte le vertenze, è sempre uno, il tema occupazionale. Non si possono slegare infrastrutture dalla forza lavoro. Infrastrutture e forza lavoro devono stare insieme. È, come dire, lo spirito guida quello di tutte le vertenze che noi proviamo a governare. Dal sindacato non hanno alcuna intenzione di fare passi indietro. Si sono ritrovati in sit-in per consegnare la loro vertenza nelle mani del numero uno di Confindustria a Carlo Bonomi e a Bari. I lavoratori di Baritec sono in presidio davanti ai cancelli della società, denunciano un comportamento scorretto e irresponsabile ai loro danni. Niente cassa integrazione per la transizione occupazionale, niente manifestazioni di interessi alternative con la scadenza degli ammortizzatori sociali che incombe. Avevamo avuto delle garanzie e delle promesse rispetto a delle offerte che erano arrivate per rilevare il nostro capannone, compresi i lavoratori, 116 ormai. Abbiamo ricevuto dalla parte della nostra azienda un'opposizione tale che ha compromesso la trattativa con questi acquirenti. Ci sono 116 famiglie serie che hanno volontà di lavorare, vogliono recuperare il proprio posto di lavoro, dandoci a qualsiasi tipologia di lavoro e sono già disponibili da oggi. Siamo qua a manifestare questa grande negatività che l'azienda ha dimostrato nei confronti di chi ha dato sangue e sudore per loro. È per la disperazione dei lavoratori che vedono la data limite del 31-12-2022, data limite che la Baritec ha detto che gli ammortizzatori sociali non intende più pagarli. In conseguenza loro fino a dicembre sono coperti con gli ammortizzatori, dopodiché scatteranno le lettere di licenziamento.